Io sono l'imperatore Però abbiamo perso ben quattro divisioni Nel tentativo di trollata globale Che stavamo tentando di fare Ossia quello di instaurare Una Germania comunista Niente, ci è andata male, ci è andata male Ma sono cose che succedono Quindi accettiamolo nella maniera più fatalista possibile E vabbè, così doveva andare Così doveva andare Adesso sto producendo un po' di truppe per la guarnigione Pensavo che fosse giunto il momento Comunque per mettere a posto anche Le mie divisioni E cominciare magari a reclutare qualcosa di interessante Mettiamo l'artiglieria come al solito Battaglione da 40 Niente di che ragazzi Mi piace giocare nella maniera più standard possibile Cazzo mi serviva questo E vabbè, dai, niente Prendiamolo Abbiamo 40 di esperienza Mentre queste da 20 Mettiamo un po' di artiglieria Ed è a posto anche questo template Produciamo un po' di queste fanterie da 40 Mentre quelle da 20 le useremo un po' per coprire i fronti Mentre queste saranno il nucleo Del nostro esercito Mentre per quanto riguarda le divisioni di carri Per il momento non le tocchiamo Perché non ci servono Non ci servono proprio Abbiamo delle divisioni di cosacchi Tra l'altro che possiamo anche pensare di produrre Sono da 12 Mentre queste da quante sono? Da 18 Ma... Ma sì Produciamo un 5 divisioni Che le mettiamo a guarnire i porti Che male non fanno Magari tipo 2 Così ne producono 10 Allora poi per i focus Per fare la modernizzazione qui Dell'armata L'ammodernamento Bisogna fare il supporto all'aeroflot E al nostro ammiraiato Quindi prima facciamo questo Che ci serve di più L'ammiraiato E poi ci dedichiamo alla flottiglia aerea Così finalmente possiamo Ambire a modificare quello Allora cos'è che stiamo producendo qui? Carrier fighter Perfetto Le mettiamo subito in produzione Non voglio fare varianti Anche perché non abbiamo esperienza Quindi propiamente non posso Abbiamo light cruiser di livello 2 Anche qui mettiamo 10 Così è perfetto Forse stiamo facendo davvero tante carrier fighter Però ci servono per la nostra Per le nostre porta aerei Magari ne produciamo altre 3 Tipo ne facciamo 4 per flotta Dovrebbe servire quante ne abbiamo Una in questo momento E dovrebbe avere la nostra flottiglia aerea Tipo ecco qui Cosa che dice Da 55 Servono CV, naval bomber E carrier fighter Ok dai Allora produrremo anche un po' di naval bomber Qui stiamo facendo Vabbè due fabbri che ci stanno In realtà Uno al mese Qui di aereo Sono un po' pochini In realtà Quindi teniamolo Sì vabbè che adesso Sproduciamo anche meno Perché abbiamo Convertito la L'industria Vediamo se abbiamo i naval bomber Il carrier naval bomber Sì ce l'abbiamo Quindi dividiamo Le fabbrichette Così questi andranno poi direttamente Nelle Nelle porta aerei Allora Dottrina aerea Niente Engineering va bene Io direi di fare questo E basta Così non ci facciamo Non ci facciamo problemi Purtroppo per continuare A mantenere lo zar Abbiamo rinunciato al quinto Slot di ricerca Ma Vabbè Ragazzi Ci accontenteremo D'altronde Va bene anche questo Sono sempre più indeciso Tra questo crocevia Russo Ma penso che andrò Da questo lato Perché sinceramente Di attaccare Cioè per fare la guerra All'Afghanistan È molto bello E anche questo Poi mi consente Tipo di annetterla Mongolia Di annetterla Sin Chiang Però È di integrare La Galizia Quindi Non è male questo Però mi aggiunge Un po' di roba Tipo la guerra Con la Britannia Ecco Che non mi serve Poi anche annetterla Mongolia Annettere il Sin Chiang Alla fine Quante fabbriche guadagno 3-4 Questi sono Gente che ancora Allo stadio primitivo Pensate che i mongoli Combattevano ancora Avevano ancora Gli arcieri a cavallo Nel 38 Quindi È bella anche questa cosa Come non perdere Le antiche tradizioni Invece questo Mi piace Che posso Comprarmi l'Alaska E comprarmi l'Alaska È una cosa Molto Molto Bella Grandissimi Sviluppatori Che hanno aggiunto Un simile focus Ma perché comprarmi l'Alaska Molti non sanno Che l'Alaska Non è Non era originariamente Americano Ma anzi È stata l'unica Colonia russa Ma adesso Adesso ne parliamo Ragazzi Adesso ne parliamo Quindi Io metterei Qualche altra fabbrichetta Tipo toglierei questo E metterai 6 Per non esagerare Metterei qualche altra Fabbrichetta Sull'artiglieria Perché ne abbiamo bisogno Sì 1000 di motorizzate 1700 di artiglieria Quindi io metterei Un altro po' di motorizzate Ma come mai Mi servono così tante motorizzate Per le divisioni di carri leggeri Immagino di sì Allora Anche qui Vediamo cos'altro Si può fare Material designer Io farei quello Dell'equipaggiamento Della fanteria Perché tra poco Doviamo cominciare A modernare Modernizzare anche il nostro Il nostro esercito Ma oggi In questo episodio Prima di parlare Della Lasca Che Per il quale Penso dedicheremo Il prossimo Al momento ci dedichiamo A Mikhail Mikhail Il nostro Nicola II È stato costretto All'abdicazione È stato costretto All'abdicazione Soprattutto per la sconfitta La sconfitta militare No Non sto parlando di questo scenario Sto parlando della storia vera No È stato costretto All'abdicazione Perché oramai Il popolo lo detestava Proprio perché vedeva in lui Il principale colpevole Di tutti i drammi Soprattutto non era tanto La morte dei soldati Quello che infastidiva I contadini Anche quello Sì chiaramente Ma era soprattutto La fame Non arrivavano le derrate alimentari Si moriva di fame In Russia Cioè c'erano state delle carestie Anche negli anni precedenti E quindi comunque Lo zar si era ritrovato In una situazione Davvero Davvero terribile Ve l'avevo detto Nel primo episodio Che lui comunque Non aveva mai Così tanto desiderato Fare l'imperatore Quindi Preso un po' Dallo stress Decise di Lasciare Di abdicare No Abdicare vuol dire Cedere il trono E lo volete Decise addirittura Di non passarlo Al figlio Perché il figlio Era malaticcio Il buon Alessio Alexei Aveva gravi problemi Di salute Era omofiliaco Quindi bastava un taglietto Per farlo sanguinare L'unico che era in grado Di fermare Ad arrestare le sue emorragie Era Rasputin Ma di questo Ne abbiamo già parlato Quindi magari Ne accenneremo Accenneremo più avanti Sempre perché È un personaggio Così carismatico E interessante Che è un bene Comunque considerarlo Io ragazzi Al momento Non posso fare nulla Ve lo dico Non è che sto prendendo tempo Ficchierate Se nel mondo Al 50% Io non posso far nulla Quindi È meglio rafforzarci Un po' In questa fase Senza evitare troppi Per evitare I casini successivi Abbiamo dei light tank Quindi io direi Di produrre Un'altra divisione Di carri Eh Però questa non è Tanto buona Da 20 Mettiamoci Light tank Ecco Da 20 Adesso È più decente Facciamo subito A produrre Qualche divisione Di carri leggeri Magari ne produciamo 5 Che male non fanno Soprattutto per riprendere Quelle 3 Divisioni di carri leggeri Che abbiamo perso Siamo sotto I 2300 carri Mamma mia Che merda È perché L'abbiamo aggiunti Ovunque No niente Non produciamo Proprio un cazzo Vediamo di quanto Siamo sotto I 514 Decisamente più accettabile Quindi rinforziamo Le divisioni Di carri leggeri Ecco questi carri leggeri Penso che li userò Negli sbarchi Tipo Sbarchiamo Che so In Giappone Gli buttiamo dentro Questi carri leggeri Da 20 Perché Così da usarli Contro la fanteria Diciamo che Il Giappone Non ha mai avuto Una storia di carri Così Così buona Quindi Stavo dicendo Nicola Seconda Non voleva lasciare La situazione Del povero Alexis Che era già Era già molto Alexei Anzi Era già malaticio Aveva già i suoi problemi E poi la situazione Era davvero grave Che c'erano i comunisti C'erano i soviet C'era Lenin Che Faceva pesare Sempre di più La sua La sua voce Appunto Nelle questioni Aveva il consenso Popolare Ragazzi E E quindi Principalmente Lo Concedette Il suo Il trono Al suo fratello Minore Mikhail Mikhail Era pronto Ad accettarlo Ma Il capo Del governo Dell'epoca Kerensky Decise Che no Era meglio Era meglio Evitare Perché Era meglio Cercare di fare Una repubblica Per salvare Un po' Il salvabile Quello che si poteva fare Perché Ormai La dinastia De Romanov Era talmente Odiata Dalla popolazione Che Se non si faceva Una cosa del genere Kerensky Pensava Era la fine Della Russia Invece Anche se Mikhail Ha regnato Per Tipo Cinque ore Sei ore Poi abdicato Subito Non è servito Non è servito A nulla Perché poi La rivoluzione D'ottobre C'è stata Lo stesso Quindi Il casato Degli zar È stato Sterminato Proprio Mikhail È sopravvissuto Allo sterminio Della sua Dinastia È scappato Quindi I Romanov Erano stati Trucidati Nel 1917 17 Mikhail Verrà Invece Quando si pensava Che ormai Sera salvato È stato ucciso Però poi Nel L'anno dopo Proprio da un Commando sovietico Che l'hanno preso E l'hanno voluto L'hanno ammazzato In realtà Si dice che Diciamo Che i comunisti Si sono un po' Lavati le mani Ha detto che non era Colpa loro E erano i contadini Che odiavano i Romanov E quindi quando l'hanno visto L'hanno preso E l'hanno ammazzato Perché lui stupidamente È rimasto in Russia Non è scappato Cioè Si è nascosto Tipo in un albergo Ecco è rimasto lì E invece Doveva cercare di scappare L'hanno preso E l'hanno ammazzato Terribile Terribile Il povero Mikhail Secondo me Beh chiaramente Diciamo che Né lui Né il fratello Erano le persone adatte Per quel periodo Cioè secondo me Proprio per salvare La monarchia russa A quell'epoca Serviva O un miracolo O serviva Pietro il Grande Non lo so Cioè tipo Ivan il Terribile Non so Gente di questo tipo Vlad Dracula Che vabbè Quello era Valachiano Però mettiamolo in Russia Tipo una persona del genere Proprio perché Era così disperata La situazione Che non vedo Alcuna possibilità Intanto qui Cominciamo a mettere Le truppe di guarnigione Per rafforzare I nostri I nostri porti Direi di Appena avremo Qualche altro battaglio Ah no Questi sono da 40 Però eh Queste sono fanterie Da 40 Quindi Ecco Queste le mettiamo a Tsushima Che poi ci divertiamo E magari facciamo anche Sviluppiamo anche La dottrina Dei Dei carri No non dei carri Dei marine Allora se io tolgo Un attimo il generale Perché al momento Non mi va di mettermi A subire penalità Poi Poi mettiamo a posto Mettiamo a posto dopo Allora vediamo i tedeschi Cosa fa Potere al Kaiser Eh questi sono Sono bellicosi Eh quindi se vanno da questo lato Cosa possono fare Uber Alice Better Germany Eh ma non è ancora Il Non è ancora quello Che ci fa capire Cosa faranno A livello militare Tedeschi Quindi per il momento Dobbiamo prendere Ancora un po' Di tempo 78 giorni Per fare i fighter E quindi niente ragazzi Questi sono episodi Un po' così Di preparazione Spero che la mia compagnia Vi Vi piaccia Ecco Sono D'altronde Il vostro amichevole Imperatore di quartiere Quindi Cerchiamo di fare Anche questo Vedete appunto La Turchia Troppo bassa La Tensione Non so se qualcuno Stia per fare Qualche focus Intelligente Tipo No Purtroppo la Spagna Non ha un focus Molto interessante Ha questo marxismo Però Appunto il comunismo È morto Anche se Qualche sospetto Per la Per la Francia In realtà ce l'ho Perché qui mi sa che Il comunismo Sta aumentando Diamo un attimo Un'occhiata Veloce Veloce Se aumenta Adesso è 17.82 Vediamo se Ha il cambio del giorno Ok Sembra di no Sembra di no Quindi Il comunismo Non sta aumentando Anche perché Prima mi pareva Che la fetta comunista Fosse Leggermente inferiore Quindi temo un po' Per la Francia Una sua deriva Una sua deriva Comunista Ah Però l'Italia Qualcosa si è preso È un grande Cos Un grande Una grande Albania Con l'Albania Che possiede Il Kosovo So che Questo nella chat È una È una Questione molto sentita Perché c'ho Un po' Di serbi Albanesi Kosovari Che mi seguono È incredibile È incredibile Davvero A volte mi stupisco Di quante persone Ci siano in Italia Perché se in un canale Come il mio Che comunque Non abbiamo Così tante Così tante persone Abbiamo Cinesi Tipo Zou Che saluto Se stai guardando Questa serie Abbiamo Albanesi Tra l'altro Nazionalisti Quindi anche loro Per il Kosovo È interessante Anche questo Abbiamo pure Qualche ragazza In realtà Che segue il canale Ma non si fa vedere Perché è timida Non è vero Non ci sono Non ci sono ragazze Che seguono il canale Miami95 Forse ce n'erà qualcuna Quando trattavo Minecraft In un periodo Davvero Davvero funesto E terribile Quasi Sei anni fa Sì tra poco Facciamo Sei anni di canale Il primo agosto Il primo agosto Sì quindi Manca poco Allora Gli aerei Che magari poi Mettiamo a produrre Tipo Light Aircraft I Medium Aircraft Cos'è che sono Heavy Fighter E Tactical Bomber No facciamo Light Aircraft Che è molto più utile In questa fase Non ho ancora disposto nulla Di truppe Secondo me Dobbiamo rinforzare un po' Il teatro manciuriano Perché Dobbiamo anche preparare Una serie di sbarchi Ma non mi fido molto Della mia flotta In realtà È quello il problema Mettiamoci un generale Un ammiraglio interessante Colchak Ragazzi C'è Colchak Sapete chi è Colchak? È quello che guidava Il Movimento Bianco Eh sì ragazzi È quello che guidava Il Movimento Bianco C'è anche nella Kaiserreich Che è stato sostenuto Dai giapponesi Voleva creare Un protettorato giapponese Per continuare La lotta Contro i sovietici Però il suo tentativo È fallito Il suo Luogotenente Era Il nostro Uggern Von Sternberg Ve lo ricordate Nella serie con la Mongolia Allora Qui voglio fare I carri armati pesanti Quindi Non me ne frega un cazzo Quindi Andiamo da questo lato Che voglio subito farli Prima che Che sia troppo tardi Posso fare Abbiamo altro potere politico Mamma mia Tantissimo potere politico Vediamo La mobilitazione parziale No Per andare Vore economy Bisogna andare chiaramente In guerra Industrial Concern Facciamo il research time Che così poi facciamo Le ricerche Industriali Che devo stare attento A non dimenticarmele È una cosa Abbastanza facile Dimenticarsi le ricerche Industriali Vediamo Nella guarnigione Quante truppe Servono Servono 10 Per difendere Questo settore Sì Però visto che c'è Anche qualche Uh L'impero italiano Ha dichiarato guerra La Grecia Ma quanto mi piace Questa Italia Mi piace davvero tanto Estremamente combattiva Non ha bisogno Di nessuno Vediamo l'Austria Invece come sta andando Sarebbe bello Se in questo scenario Nel partito nazionalista Fosse ancora vivo Dolfus Che è stato Una specie di Ducetto austriaco Nel 1933 È stato ucciso Dai nazisti Andiamo a vedere Proprio L'industria Eccole qui Avevamo proprio Bisogno di Rinforzarle Allora Stavamo dicendo Stavamo dicendo Mettiamolo qui Sicuramente Devo difendere Questa isoletta Sì però Non ce li voglio Mettere tutti Vabbè Partono Partono proprio No neanche Ne basta una Ne basta una Ecco qui Abbiamo fatto Oh Fabbriche civili Io direi di produrre Ancora un po' di Dochiad Veramente faremo La La Russia Navale Più potente Del mondo Sì la nostra La flotta Del Kaiser E del Kaiser Dello ZAR Piccola deformazione Professionale Ormai Abbiamo fatto così Tante serie Col Kaiser Che Mi viene sempre Da dire il suo nome Allora Poi Per quanto riguarda Il resto Radar E mi serve La tecnologia Questo non possiamo Farlo Naval base Infrastrutture Anche Potrebbe essere Una buona idea Vediamo come sono Sono un po' basse Quindi se Vogliamo fare Una bella guerra Ai giapponesi Conviene Rinforzare le infrastrutture Tanto di civili Ne abbiamo Abbiamo già 200 fabbriche Quindi dovremmo essere Davvero la più grande Superpotenza Del globo Continuiamo a fare Le nostre ricerche Delle dottrine Così avremo I fighter Più potenti Di sempre Cominciamo tra l'altro A prenderli E Ah Questi sono già Cazzo Abbiamo queste Porta aerei Mi scoccia tantissimo Doverle tenere a Pietrogrado E non poterle Utilizzare Pausa 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 Che è successa Una cosa divertente Allora La Jugoslavia Proprio Ha dichiarato Guerra All'Austria E l'Austria È entrata nel Patto di Berlino Quindi Insieme alla Germania Insieme appassionatamente Contro Contro La Jugoslavia Invece l'Ungheria Ah È marxista Il pelatone Molto bene Sai perché Tutti i comunisti Sono pelatoni Un fatto interessante Vabbè Non proprio tutti L'Italia Sfondato Sì Quindi sta facendo Una campagna Di Grecia Molto più utile Niente Io la Jugoslavia La vorrei difendere In realtà Però Non c'è la tensione Vediamo quanti fucili Non abbiamo neanche fucili Da mandare Questo Questo è un problema Perché Li abbiamo finiti Li stiamo usando Per riarmare La nostra guardia Allora Stiamo facendo Queste divise Di guarnigione Che per il momento Non mi servono Proprio un cazzo E Vediamo Allora Lì abbiamo già Protetto tutto Da proteggere Ci sarebbe anche Questa costa Però Di porti Quanti ce ne sono In realtà Forse due Sì Ce ne saranno Due Tipo Vediamo Sì Così 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 Due Quindi Gli altri Li prendiamo E Li mettiamo Nella costa Baltica Chiaramente Anzi Anzi Ne teniamo Qualcuno Qui in Giappone Che a livello Di sbarchi Sono molto Più forti Di me Queste guarnigioni Qui Altre 5 divisioni Le teniamo Per il momento Lo sappiamo bene Cosa farci Stiamo producendo Questi battaglioni Appena finiranno Avremo Un buon esercito Siamo un po' Sotto di artiglieria Quindi Rafforzerai un po' La sua La sua produzione In realtà 15 fabbriche Sull'artiglieria Dato Ne stiamo facendo Superior Firepower Che tra l'altro Abbiamo anche Interrotto Speriamo di Che vada tutto Cazzo La Jugoslavia Mi dispiace L'Italia dovrebbe Entrare in guerra Contro l'Austria Befriend Serbia E però Se finisce Questo focus In tempo L'Italia potrebbe Entrare in guerra E potrebbe Scoppiare Una bella Guerricciola Tra Eh però Adesso Impegnata In Grecia Ah che bella La campagna Di Grecia Fatta così Bene Brava Iai Bravissima Bravissima Abbiamo fatto Anche un po' Di divisioni Di cavalleria Tra l'altro Che aggiungiamo Sempre a questo Comando Di Di guarnigioni Vediamo Cos'altro Possiamo Fare Allora Questi Gli mettiamo Più L'elite Che devono Arrivare Più Prima I rinforzi Sì Ok dai ragazzi Direi che Per questo episodio Con la fantastica Guerra Austro Serba Qui Gli austriaci E i serbi Si fanno Guerre Da generazioni Ci vediamo Nel prossimo episodio Che sarà il sesto Ciao a tutti Da mai dire Al prossimo video Ciao a tutti